Gentili telespettatori, in quest'ultima puntata di Dronomiti Turismo del 2023 abbiamo il piacere di accogliere Luigi Borgo, il Presidente Nazionale Collegio Maestri di Sci. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito, Borgo. Grazie dell'invito, Claudio. Allora, qui a Belluno, anche perché qui a Borgo Praccia ha la bellissima sede recentemente rinnovata del Collegio Maestri Sci del Veneto, di cui lei è anche Presidente. Certo, grazie. Allora, inizierei, prima di parlare della figura del Maestro di Sci, con lo sci in generale, che superficie ha, quanto si può sciare e di conseguenza il Maestro di Sci dove può esercitare la sua professione, qual è il vostro habitat, insomma? Allora, i chilometri di pista che sono stati così conteggiati in tutto l'arco alpino, in tutta la dorsale appenninica, risultano 3.500, cioè significa che con gli sci ai piedi una persona può così avere la distanza di tre volte e mezza l'Italia, l'Italia circa dal Brennero alla Sicilia è circa mille e più chilometri. Ebbene, gli impianti servono 3.500 chilometri di pista. Questo è un dato molto importante, perché se noi sommiamo, ad esempio, tutti i campi da calcio italiani non arriviamo a un'estensione pari, però d'altro canto, d'altro verso, il suolo della montagna occupata dagli impianti di sci, dalle piste di sci, corrisponde allo 0,07 del territorio alpino, per cui da un lato abbiamo una dimensione enorme e dall'altro lato però abbiamo un altissimo rispetto della parte incontaminata della montagna. La montagna è organizzata in impianti sciistici, ma nello stesso tempo rimane assolutamente selvaggia. Ce ne sarebbe bisogno di più, secondo lei, di piste da sci, borgo, oppure sono sufficienti queste anche per il vostro mestiere? No, io credo che oggi come oggi l'equilibrio della montagna sia eccezionale per gli impianti di risalita. Sono rare le code agli impianti di risalita. Pochi impianti di risalita presentano code. Invece in pista c'è una maggiore affluenza. Quella che secondo me invece oggi non è pari al movimento sciistico è l'ospitalità alberghiera, perché il tutto esaurito si realizza velocemente e soprattutto le vie stradali, perché la rete viaria quella è insufficiente per sopportare tutto il turismo della neve. Quello è assolutamente insufficiente, sia nel Brennero, sia nel nostro territorio. Lì sì, non siamo adeguati alla portata dei nostri impianti sciistici. Quindi adesso però mi sembra di capire più infrastrutture e meno impianti di risalita, quindi perché ci si divide molto. Nuovi collegamenti sì, no? C'è chi propende verso nuovi collegamenti sciistici per creare grandissimi comprensori. Gli ambientalisti, d'altro canto, hanno posizioni diametralmente opposte. Secondo lei, Borgo? No, secondo me la montagna oggi ha dei nuclei che sono molto organizzati e sono, direi, hanno già sviluppato la loro completezza. Quello che probabilmente può servire, e questo sicuramente, è collegare questi centri turistici della neve. Cioè fare i collegamenti sicuramente dovranno essere ancora sviluppati. Però si tratta di pochi impianti rispetto a quello che già esiste. Ecco, il maestro di sci è una figura cardine nel movimento turistico invernale, imprescindibile, direi, per poter sciare, no? Come vi collocate all'interno del sistema? Mi spiego meglio, è sufficiente il numero dei maestri di sci? Ne servirebbero ulteriori? Com'è in generale, rispetto anche al passato, la figura professionale del maestro di sci, Borgo? Allora, i maestri di sci in Italia oggi sono 16.000. Ogni anno circa vengono formati 500 maestri, ed è un numero abbastanza consistente. Il problema è che molti di questi maestri non operano, perché oggi fare il maestro di sci significa avere un altro tipo di professione, ed è difficile unire le due professioni. Stiamo cercando, anche attraverso la legge della montagna, trovare un inquadramento fiscale e prividenziale adeguato per il maestro di sci, perché noi siamo dei professionisti, come è professionista il medico, come è professionista l'avvocato. Con partita IVA, quindi? Con partita IVA, magari anche una partita IVA quella delle scuole di sci, quindi il maestro è associato nella scuola di sci e la partita IVA fa capo alla scuola di sci. Però il nostro problema è che siamo professionisti in quanto, è proprio la parola profides che vuol dire professionista, cioè a noi le persone si rivolgono per un atto di fiducia, in questo senso siamo professionisti. Poi sotto all'aspetto invece, diciamo economico, è chiaro che noi siamo dei professionisti sui generis, nel senso che lavoriamo in una finestra temporale ridotta, 3-4 mesi all'anno al massimo, e in una situazione spaziale che è quella caratteristica dell'alta montagna. Per cui adesso attraverso la legge dello sport, attraverso la legge della montagna, vorremmo che il legislatore capisse l'eccezionalità del nostro mestiere, che si fa in quel periodo dell'anno particolare, in quello spazio particolare che è l'alta montagna. E quindi confidiamo che ci sia un articolo dedicato al maestro di sci e un altro alle scuole di sci, proprio per facilitare sotto l'aspetto previdenziale e fiscale la nostra professione. Ok, quindi con delle agevolazioni fiscali e previdenziali. L'articolo 44 della Costituzione dice che la montagna va tutelata e va anche supportata, e quindi credo che la legge della montagna possa veramente venire incontro alle istanze dei maestri di sci e delle scuole di sci. La recente riforma dello sport, Borgo ha coinvolto anche la figura del maestro di sci e se si come? Non direttamente, perché la riforma dello sport ha dato dignità al lavoratore sportivo, che prima veniva pagato con rimborso spese, a fronte di spese mai sostenute. La riforma dello sport ha dato dignità alla competenza e al tempo che tante persone dedicano alla formazione sportiva. Però noi non rientriamo nell'ambito della riforma dello sport in quanto siamo dei professionisti. Abbiamo un albo professionale che ci rende tali, cioè ci rende dei professionisti, e la riforma dello sport esclude da essa proprio i professionisti sportivi. Io, forse la riforma dello sport avrebbe dovuto ispirarsi ai maestri di sci, perché i maestri di sci sono veramente i lavoratori sportivi anteliteram e il nostro modello sarebbe stato un modello assolutamente declinabile per tutte le figure della professione sportiva. Senta Borgo, in Veneto, com'è il movimento MSC rispetto ad altre regioni? Ricalca un po' la media nazionale a livello numerico oppure ci sono delle disparità? No, assolutamente. Il Veneto è un collegio assolutamente che è un collegio modello e siamo in 1600 circa e lavoriamo prevalentemente in due province, la provincia di Belluno soprattutto, e la provincia di Vicenza, tutta la fascia della Ponte Montana e assolutamente il Veneto, da quanto mi risulta, è assolutamente tra le eccellenze dello sci italiano. Senta, diventare maestro di sci, il movimento giovanile, c'è voglia di diventare maestro di sci? È difficile diventare maestro di sci? Voi come collegio promuovete magari un affiancamento, guidate magari i giovani, agevolate il percorso per diventare maestro di sci, Borgo? Diventare maestro di sci è difficile, diventare maestro di sci bisogna assolutamente essere appassionati alla montagna e a questo mestiere, bisogna dedicarci per diventare maestro di sci ed è un percorso il nostro a livello europeo tra i più alti, più impegnativi, perché bisogna ricordare che i maestri di sci italiani sono gli unici che hanno il massimo grado, non solo il massimo grado nazionale, ma il massimo grado europeo. Nel momento in cui un giovane supera tutti gli esami, che sono un esame teorico, uno pratico, uno didattico, e poi l'eurosicurité e l'eurotest, cioè la prova formativa tecnica cosiddetta, acquisisce il massimo grado e ha accesso alla piattaforma europea IMI, la piattaforma delle professioni, che permette la libera circolazione tra gli stati membri della comunità europea. E quindi il maestro italiano è il maestro che nel momento in cui si iscrive a un albo regionale può anche iscriversi alla piattaforma europea, per cui è veramente un plus rispetto alle altre formazioni continentali. Senta, siamo nel clou della stagione invernale, nelle vacanze di Natale, piste del sci affollate, quindi molti sciatori provenienti da ogni dove, la cultura sportiva, il fatto di promuovere lo sport non soltanto come divertimento, cioè andare sulle piste magari in maniera impropria e poi magari si provocano degli incidenti, interviene il servizio sanitario, quindi costi anche per la collettività, oltre che logicamente per la sicurezza. Ecco, la figura del maestro di sci per insegnare che lo sci alpino evidentemente è uno sport a tutti gli effetti e non è solo divertimento. C'è sufficiente cultura in questo senso, secondo lei Borgo? Noi stiamo osservando questo fenomeno, sempre di più persone sciono meno ore, ma quelle ore che sciono preferiscono sciare con i maestri. Cioè c'è una riduzione, magari uno non fa più otto ore in pista, ne fa un pomeridiano, un mattiniero, ma in quelle ore lì preferisce sciare con i maestri. Tante volte si osserva che in pista ci sono tanti sciatori accompagnati, seguiti da maestri di sci. Sciare con i maestri di sci significa sciare in sicurezza e imparare di stare sulla neve in sicurezza. Sono pochissimi gli incidenti che si registrano durante una lezione di sci e questa è una cosa importante. Oggi proprio c'è proprio il desiderio di imparare a sciare e nell'acquisire la tecnica sciistica si capisce che aumenta proprio il divertimento. Potrei fare un paragone, no? Non si va più al bar per dissetarsi, si va al bar per bere un buon bicchiere di vino. Ecco, si va a sciare non più per fare miliardi di chilometri, un miliardo di discese su e giù per la stessa pista, ma si va a sciare proprio per migliorare la propria tecnica sciistica e nel miglioramento aumentare il piacere di stare in montagna. Senta, Borgo, un'ultima domanda. Abbiamo quasi isolito il tempo a nostra disposizione. Lo sci alpino è uno sport chiaramente anche costoso fra lo ski pass e l'attrezzatura e allora il costo del maestro sci c'è una tariffa unitaria per tutto il territorio oppure territorio nazionale piuttosto che benedetto oppure ogni scuola sci o ogni maestro fa una tariffa che apri una tariffa che meglio crede. Beh, c'è un'indicazione di massima più o meno le lezioni sci costano più o meno c'è una leggera differenza non è così rilevante però dopo ovviamente è anche un libero mercato per cui le scuole di sci tra di loro possono avere tra un territorio e l'altro costi di lezione diversi però mediamente la lezione è uguale un po' in tutta Italia è costoso lo sci ma insomma mi sembra che la vita sia costosa così to cure però quello che lo sci dà non lo danno tanti altri sport e lo sci non è solo uno sport io amo dire che lo sci è turismo tour nell'accezione proprio del termine cioè girare girare per le montagne la montagna innevata è un è un elemento dove si può arrivare soltanto con gli sci e quindi è un modo per vivere la montagna lo sci e quindi è un turismo che si pratica facendo uno sport e quindi c'è questa doppia combinazione questo connubio per cui è qualche cosa cioè non è non si sta potrei fare mille esempi dentro di un palazzetto a fare soltanto un esercizio certo si fa un esercizio ma in quel momento lì anche si vive la natura si conosce la natura e si partecipa all'immensità e al candore della montagna innevata per cui lo sci è qualcosa veramente di magico e di unico difficilmente paragonabile soltanto a uno sport e allora Borgola ringraziamo moltissimo per queste utili indicazioni che ci ha dato e per questa voglia di montagna e di sci che ci ha trasmesso attraverso le sue parole lasciamo un ultimo saluto a lei per l'augurio di un buon anno ai nostri tre spettatori io vorrei augurare ovviamente a tutti i maestrici italiani in particolar modo ai maestrici veneti veramente un buon Natale e un anno di grande prosperità e questo augurio lo estendo a tutti gli appassionati della montagna invernale cioè a tutti i sciatori italiani grazie Claudio grazie a lei Borgo e grazie a voi tutti per la gentile visione arrivederci alla prossima puntata di Dolomiti Turismo grazie a tutti